Buongiorno a tutti, bentornati al Teatro Mazzoni. Quest'oggi abbiamo la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Dante Giotto di con Vittorio Sgarbi. Al tavolo abbiamo anche Marcello Corvino che è il produttore storico ormai di Vittorio e Valentino Corvino che ha composto ed esegue le musiche dello spettacolo. Vittorio Sgarbi torna al Teatro Mazzoni dopo il grande successo di Michelangelo e Leonardo. Dal 23 al 28 novembre io cederei subito la parola. Io personalmente ritengo un privilegio lavorare con Vittorio. È stato iniziato nel 2015 con Caravaggio, Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo e adesso questa nuova vittura tra Giotto e Dante. La firma dell'allestimento è il Doppio Senso, che è un mio progetto personale che ho negli anni sviluppato con diversi video artisti. di allestimenti, in doppio senso proprio perché è un lavoro sulla visione e sull'ascolto contemporaneamente. Quindi non mi sono limitato negli spettacoli di Vittorio a scrivere dei brani musicali e ad interpretarli, ma a creare un percorso emotivo attraverso la musica e le immagini. E questo percorso ha una struttura che non è didascalica rispetto al discorso di Vittorio e fa un suo percorso indipendente che però crea la griglia entro cui poi si muove liberamente Vittorio. e noi cerchiamo attraverso la musica e le immagini di creare quell'emozione che non si dice a parole e quindi noi ci concentriamo sull'emozione pura. Passo la parola a Vittorio che adesso ha finito la pausa, diciamo, era un inviario. Sono questi momenti che vediamo davanti, diciamo, che sono fatti, si muovono con una... ed è la capacità di raccontare, raccontare le vite d'altri. Però tutto questo, che la nostra poesia tende a non esistere, è stato inventato da Dante. Perché Dante è un grande inventore di persone, di personaggi, di emozioni, di sentimenti, di storie. Quando noi leggiamo Dante, parla di Paolo e Francesca. Però, insomma, è una storia meravigliosa, di un adulterio, che Dante non sente come una situazione di peccato, ma come una situazione di grazia perduta, di una vita che se ne va nel momento in cui l'amore potrebbe consacrarla. È un amore peccaminoso, ma insomma, nessuno è stato capace di farci vedere delle persone come ha fatto Dante. E questo in lingua italiana. Quindi il grande racconto di Dante è un racconto che indica una nazione. Perché dove c'è una lingua c'è una nazione. E noi abbiamo la lingua italiana ben prima che Cavour, Vittorio Emanuele e Garibaldi uniscano l'Italia. Ma questo vale anche per la pittura, perché la pittura inizia con Giotto. Nel Rinascimento si configura come uno stile non solo italiano, ma anche europeo, che parte dalla Sicilia e arriva fino alla Germania e in questo rinascimento è l'anima vera dell'Italia. Ma il fondatore di questo rinascimento, sia pure ai suoi albori, è un pittore che invece di dipingere delle immagini ripetitive che sono legate al mondo bizantino, che è come la lingua latina, è una lingua che indica dei codici, Dante scrive, Giotto dipinge in italiano, descrive dei personaggi, descrive delle situazioni, descrive delle tensioni, degli amori, dei dolori. Quindi fa con la pittura quello che ha fatto Dante con la parola, ma con la parola Dante dipinge. E con la pittura in qualche momento Giotto è pieno di sentimenti, di emozioni. C'è quell'episodio bellissimo dell'incontro di Gioacchino e Anna, che nonostante quello che ho appena detto del matrimonio, fa venire la nostalgia del matrimonio, perché i due si uniscono come una persona sola davanti alla porta aurea e fanno sentire il loro volto diventa un volto solo, con due occhi e un naso, si uniscono come fossero una persona sola. Ecco, Giotto ci trasmette dei sentimenti, degli stati d'animo che nessun pittore prima aveva espresso. Quindi sono due punti di inizio, il primo pittore moderno, che non è Picasso, ma è Giotto, e il primo poeta italiano. Entrambi in una situazione di cominciare una lunga storia che arriva fino a noi, per cui la contemporaneità può anche essere vista attraverso la Divina Commedia, attraverso il peccato, la penitenza, il riscatto, la salvezza. Quindi sono tempi che non finiscono. La Divina Commedia è la proiezione di un mondo che lui ha vissuto, ma che ha gli equivalenti nell'esperienza del nostro tempo, che si divide fra bene e male. Per cui, certamente, nessuno è stato così polivalente, così polilinguista, così capace di rappresentare le varietà, anche con le diverse temperature delle tre cantiche, come Dante. E questo è la ragione per cui noi parleremo di un canto dell'inferno e di due canti del paradiso. Un canto in cui si identifica una figura femminile che è Piccarda, che è un canto che spiega il senso stesso della dimensione paradisiaca rispetto a quella infernale, dove c'è il peccato che vuol dire libertà. Cioè, nonostante la pena, c'è la libertà di trasgredire, che è quella di Paola Francesca, alta e grandissima. In paradiso c'è solo la libertà di obbedire, è una libertà anche quella, ma devi voler obbedire. E questo è Piccarda. E poi il canto undecimo, che è quello in cui si compie la congiunzione fra Dante e Giotto, perché nell'undicesimo canto c'è la decisione dei due santi fondamentali della nostra religione, che sono Francesco e Domenico. Francesco è il poeta, il santo della povertà, si sposa con la povertà, vive per gli altri. Domenico invece è un intellettuale che indica i principi fondamentali della conoscenza che porta a Dio. Lui rimette insieme, dà molto più spazio a Francesco che a Domenico, e in quel momento noi possiamo agganciarci al ciclo da cui parte l'opera giottesca, che è quello di Assisi, che è nella Basilica Superiore, al racconto di Francesco. Quindi le parole di Dante, le immagini di Giotto rispetto al primo santo italiano, che è l'essere umano di tutti vicino a Dio, vicino a Gesù. Gesù poi era un uomo, il tema della divinità è un tema complesso, lo facciamolo perdere, è un tema teologico, però certamente Francesco, nella sua invitazione di Cristo, è la persona più vicina a Cristo stesso. E quindi il racconto della sua vita, in maniera avvilmente illustrata da Giotto, ritorna anche nelle parole di Dante, che sono ampie, doviziose, e fanno vedere tutti questi fraticelli che inseguono e corteggiano anche loro la povertà. La povertà diventa una bella donna, che tutti si cerchiavano di cacciare, di sfuggire, e invece lui la sposa e anche gli altri la sposa. Però la descrizione di questa rincorsa verso la povertà, da tutti negletta fino a quel momento, è una delle pagine più belle del Paradiso di Dante. E il racconto di Giotto compete e talvolta supera, perché Giotto si occupa di molti momenti della vita di Francesco e con una capacità di, non so, c'è il momento in cui l'assetato beve, perché Giotto fa, cioè Francesco fa uscire l'acqua dalla fonte, e senti l'ansia e il desiderio di bere di una persona che sta morendo di sete. Ogni episodio che racconta Francesco, che parla agli uccelli, sono immagini meravigliose e sono le prime immagini, e quelle assolute, non si potrà più immaginare un Francesco dopo Giotto. Allora, ben intanto, buongiorno professore, con Bruno e il Felesco, grazie, benvenuto. Senta, volevo chiedere di questo, Cioè, è il recito di protagonizzare che artisti come Giotto, che ci chiamano anche Cimacue, quindi Zelli, Pietro Gallini, non orfo di campo, come del genere, Dante, Ieri, compie proprio una sorta di vera rivoluzione governicana, nel senso che questa rivoluzione porta ad una nuova raffigurazione artistico-literare di tipo unico. C'è un vero storico, come quello fra il XIII e il XIV secolo, che è caratterizzato dalla rivoluzione del realismo. Che tipo di realismo è quello di Dante Ieri? Significa da parte del poeta, sono da parte del sommo dittore di reabrogarsi di un qualcosa che era avvenuto magari, evidentemente, in secoli precedenti. Si instava un nuovo rapporto con il realismo e con la verosimilianza. Questi artisti, che cosa provano e a che cosa annuncono? Diciamo che del gruppo di nomi letto tutti sono personalità di grande forza in tempi leggermente distinti e che escono dal lungo incubo dell'arte bizantina che è un'arte omologante è un'arte che rappresenta schemi che si ripetono e a partire dal nuovo fuoricambio prima ancora di lui da Miligelmo appare qualcosa che ha a che fare con l'uomo con l'umanità che non è realismo nel senso che noi intendiamo da Caravaggio in avanti cioè un realismo come rappresentazione della realtà che si vede è un realismo di emozioni di stati d'animo, di sentimenti cioè vediamo, sentiamo quello che ha sette cioè che riusciamo a vedere in quelle immagini non la realtà fotografata ma una realtà psicologica una realtà spirituale e quindi tutti quelli che lei ha indicato hanno questa inclinazione emotiva e sentimentale che diventa un linguaggio moderno cioè un linguaggio dell'uomo non un linguaggio di Dio l'arte bizantina è un linguaggio di Dio e l'arte moderna è il linguaggio dell'uomo e questo in Dante vuol dire come negli altri poeti che ha ricordato scrivere l'italiano scrivere per il vulgo quindi fare la lingua volgare invece che la lingua aulica quindi diciamo si scende dal cielo alla terra e alcuni degli artisti che lei ha ricordato sono appunto rappresentanti di questo percorso che umanizza l'arte più che realismo è umanizzazione dell'arte è storia delle condizioni dell'uomo e della sua reazione rispetto al bene al male alla luce all'ombra quindi questo hanno in comune se dovessimo trovarli e questo vuol dire appunto modernità cioè dare all'arte il compito di rappresentare non degli simboli degli emblemi ma rappresentare qualcosa che è il sentire dell'uomo e in questo Giotto certamente è una personalità artistica insuperabile più moderna anche di Picasso per molti versi perché Picasso poi a un certo punto diventa un'artista di propaganda mentre la sobrietà la sintesi dei grandi artisti da Giotto Piero della Francesca è proprio l'anti-retorica è un'arte profondamente non eloquente cioè non tribunizia non di è l'arte è l'arte dell'uomo della semplicità dell'uomo ecco questo è in poesia Dante che è così grande così giganteggiante però ha una formula linguistica che indica con precisione assoluta lo stato d'animo e la condizione psicologica del personaggio che descrive quando Francesca che riparla sempre lei non parla lui domina lei dice che è all'inferno ma continua ad amare e ha un concetto che nel rapporto che la stringe a essere una con un altro cioè diventano sono due figure che sono sempre insieme lei dice come un'imprecazione al cielo che mai da me non fia diviso cioè che nessuno pensi di poterlo separare preferisco peccare stare all'inferno ma unita a lui che qualunque grazia è meraviglioso che mai da me non fia diviso cioè quindi la dannazione non è più forte dell'amore contraddice un po' quello che dicevo prima di di Renzo e Lucia ma ammesso che l'amore possa essere eterno ammesso che l'amore possa essere assoluto lei non si pente non ci pensa neanche cioè io voglio che lui anche qui anche dannati anche nella merda in cui siamo finiti però sempre con me e quello definisce un carattere definisce una passione dire in un verso una cosa così forte non è cosa semplice insomma come le altre poi formule amor che a nulla amato amar perdone che sono diventate proverbiali ma quell'imprecazione poi quando dice che se fosse per lei chiederebbe a Dio di essere gentile e amico con Dante ma siccome loro non sono nessuno che sono all'inferno non ha neanche la forza di poter chiedere qualcosa a Dio perché Dio comunque si nega a loro è veramente potente cioè il fatto di mettere all'inferno quei due è una cosa che lo stesso Dante non piace e comunque lei è lì e dice qui lui lui comunque deve stare vicino a me se anche mi dicesse Dio vi diamo la grazia io voglio che lui stia con me anche se sarebbe stato di peccato perché sono due adulti ecco allora questa rappresentazione della verità dei sentimenti anche nel male ecco il male è uno dei temi più complessi da rappresentare se è riuscito Caravaggio certamente ma anche Dante un artista che riesce a raccontare il male e che riesce non dico giustificarlo perché giustificare il male poi potrebbe essere malinteso però riesce a farne capire le ragioni ecco e questo è l'uomo l'uomo è una miscela di male e di bene ecco quindi questo quindi quello che i nomi che l'hai mal letto sono tutti gli artisti che riescono a farci vedere l'uomo ecco l'uomo appare compare prima di quegli artisti l'uomo non è molto bisogno delle cose belle ci sono delle proiezioni verso il mondo il mondo metafisico è lo spirito dell'arte bizantina non c'è un uomo nel mondo secondo lì c'è la religione c'è la fede c'è la grazia c'è la luce ma l'uomo comincia a apparire qui con Dante ha sempre un equilibrio tra come dire dimensione terrena e dimensione celeste con loro due voglio dire l'immagine è portata a dire cose universali non c'è dubbio beh d'altra parte l'arte o è universale non è sarebbe cronaca altrimenti quindi quando quando si sente appunto il canto celebre che noi non mancheremo di celebrare del Paolo e Francesca l'emozione prende chiunque insomma non c'è nessuno che li condanna noi sono condannati però Dante li assolve anche noi il che vuol dire che il bene è relativo o il male è relativo insomma sono considerazioni che non avrei voluto fare ma insomma è vero che noi proviamo una profonda partecipazione e Dante chiude il canto dicendo e caddi come corpo morto cade anche lì la meraviglia del verso la cadenza delle parole è per dire che lui era talmente sopraffatto da questo che aveva visto che non è in grado di non è in grado di respingere quella verità non è in grado di contrastarla non è in grado neanche di dare ragione a Dio cioè gli viene dubita perfino di Dio quindi preferisce cadere come corpo morto cade che entrare quindi sono ma spesso accade che Dante abbia la capacità di rappresentare in modo così intenso i sentimenti e le emozioni marcele di lato avesse 4 milioni avesse 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 avesse